Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove per traffico intenso ci sono rallentamenti tra il Bivio con la variante di Valico e Calenzano, Sesto Fiorentino in direzione Roma e tra il Bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna. Sulla strada provinciale 34 di Rosano, senso unico alternato e lavori fino al 23 marzo al chilometro 7500 in località Vallina nel comune di Bagno a Ripoli. A Firenze per i cantieri della tranvia fino al 16 marzo divieto di transito all'incrocio via Pisacane e via Mazzoni. Infine per i treni sulla relazione Firenze-Arezzo, permane attivo il servizio con bus sostitutivo nella tratta Ponticino-Arezzo. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!